Ciao a tutti, oggi prepareremo lo spumona al caffè con acqua. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua molto fredda, zucchero e caffè solubile. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il caffè solubile e lo zucchero semolato e li facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Aggiungere l'acqua che deve essere molto fredda. Ed azionare il bimbi per 10 minuti a velocità 4. Fermiamo il bimbi perché lo spumone è ben montato. Lo spumone all'acqua è pronto. Trasferiamolo in dei bicchierini e serviamo. Spumone al caffè con acqua. Grazie e alla prossima ricetta! Spumone al caffè. Ciao! Spumone al caffè. Ciao! Grazie a tutti.